Augusta e infezioni da Covid provocarono sei decessi, due persone accusate di omicidio colposo plurimo aggravato. Agenti del commissariato di Augusta hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di due soggetti in qualità di amministratori di due residenze per anziani, a 26 ad Augusta e a Siracusa. La Procura della Repubblica e a Siracusa, condividendo in pieno quanto accertato dal personale del commissariato a seguito di una complessa attività di indagine durata più di un anno, ha contestato ai due soggetti in concorso tra loro i reati di omicidio colposo plurimo aggravato da violazioni sulle norme in materia di lavoro e lesioni personali colpose. Infatti, in qualità di amministratore di due residenze per anziani, a 20 sede da Augusta e a Siracusa, per svariate violazioni al decreto legislativo, nonché delle indicazioni per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2, in strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali, i due fortemente indiziati determinavano il contagio di 23 persone tra operatori della struttura e ospiti, provocando il decesso di sei anziani pazienti. Sempre per le sommenzionate negligenze, imprudenze e imperizie, inoltre provocavano una malattia a processo infettivo con durata inferiore a 40 giorni agli operatori della struttura residenziale. L'indagine trae origine da un esposto presentato nel gennaio 2020 dalla moglie di un defunto ospite della residenza per anziani di Augusta, deceduto a seguito delle complicazioni respiratorie dovute alla polmonite da Covid-19. Secondo quanto ricostruito dal personale del commissariato, i due amministratori, dopo aver impiegato il 2 dicembre 2020 un'operatrice socio-sanitaria presso la struttura di Siracusa, dove la stessa era venuta a contatto con un ospite risultato in pari data positiva al Covid, e gli disponevano che la stessa dal 4 dicembre 2020 e per i giorni successivi prestasse l'attività lavorativa presso l'altra struttura per anziani nel Comune Megarese, non ponendo in essere alcun protocollo sanitario per evitare il contagio all'interno della stessa, arrivando ad omettere le dovute comunicazioni all'USCA di riferimento per l'avvenuto contatto stretto con positiva al Covid-19. Nello corso, i due fortemente indiziati non adottavano speciale misura di tutela, quale l'utilizzo di DPI specifici per l'emergenza in corso, determinando così il contagio di 23 persone tra ospiti e operatori. Nel giro di circa due mesi, a causa di tali negligenze, decedevano sei ospiti della struttura per anziani per complicanze respiratorie dovute a infezioni da Covid-19.